Ben trovati a tutti i telespettatori, tele Nicosia, queste nuove flash provinciali dell'8 ottobre curate dalla nostra redazione. Nicosia è stato evacuato per motivi di sicurezza il plesso scolastico di Contrada San Giacomo che presenta problemi di avvalamenti nel pavimento di un'aula e diverse crepe nei muri. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di chiusura per 15 giorni, il tempo necessario per effettuare le prove di carico per verificarne la consistenza statica della struttura. Nel frattempo i circa 40 bambini che giornalmente frequentano la scuola elementare e l'asilo sono stati trasferiti nel plesso scolastico di largo peculio. Nicosia, il Comune ha scritto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per richiedere due finanziamenti, il cui importo totale di circa 900 mila euro. I fondi verranno reperiti dalla quota parte dell'otto per mille destinato allo Stato. I progetti riguardano il restauro esterno della chiesa di San Vincenzo Ferreri per un importo di 483 mila euro e la riqualificazione energetica delle scuole Alighieri e Pirandello per un importo di 405 mila euro. Nicosia prosegue l'iter per l'assegnazione dei primi tre lavori finanziati con la devoluzione del muto di oltre 2 milioni e 200 mila euro acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti dall'amministrazione Catania per la realizzazione del parcheggio di Santa Maria di Gesù. Si tratta di alcuni dei 14 lavori previsti dalla delibera di giunta 56 2014 attraverso la quale si rimodulavano alcuni interventi urgenti e prioritari. I tre lavori per i quali si trova a conferire l'incarico ad un geologo professionista per la redazione delle indagini, delle prove e studio geologico con la relativa relazione riguardano il consolidamento del tratto stradale Santa Lucia Torretta il cui costo previsto è di 150 mila euro, la sistemazione del tratto di strada di via nazionale interessata da un cedimento il cui costo previsto di 125 mila euro e la realizzazione delle due rotatorie previste in bivio crociate e a Santa Lucia per un importo totale di 240 mila euro. Troina e il Consiglio Comunale ha approvato le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario del 2014 a fronte della prospettiva di nuove entrate di circa 367 mila euro provenienti dalle attività di accertamento relativa a Limo e a Lici, l'amministrazione comunale ha deciso di distanziare le nuove somme disponibili per concretizzare alcune importanti iniziative già programmate per l'anno in corso. Questi gli interventi previsti, 24 mila euro andranno al settore sociale, 40 mila euro alla manutenzione degli edifici comunali, 140 mila ai cantieri di lavoro, 20 mila euro alla viabilità esterna e 125 mila euro all'edilizia scolastica. Gli emendamenti proposti dall'amministrazione sono stati votati all'unanimità dal consesso civico, compresi i consiglieri di minoranza e di opposizione del gruppo insieme per Troina. Leonforte è giunta quest'anno alla 33esima edizione della Sacra delle Pesche Leonfortese. Il weekend del 4 e del 5 ottobre è riuscito ad attrarre vari turisti e cittadini leonfortesi desiderosi di scoprire o riscoprire antiche tradizioni ed assaggiare prodotti tipici della cittadina. Quest'anno siamo riusciti ad organizzare una Sagra a costo zero, purtroppo in questo periodo di magra non è facile attingere i fondi del comune, ma fortunatamente abbiamo potuto contare sull'aiuto economico degli sponsor che hanno reso possibile la riuscita di questo evento così importante ormai da 33 anni per la storia e la tradizione del nostro paese. Queste le parole dell'assessore allo sviluppo economico Domenico Livolsi. Diverse ed interessanti attività hanno accompagnato il pubblico tra le varie bancarelle nelle quali era possibile acquistare, oltre alle pesche e frutto protagonista della Sagra, diversi oggetti o prodotti culinari facenti parte della tradizione enogastronomica leonfortese e siciliana. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione dell'Uizze Flash curate dalla redazione Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. www.telenicosia.it. Per le vostre esigenazioni potete scrivere a redazione www.telenicosia.it Un saluto da Sergio Leonardi